Il cicloturismo è certamente un pezzo del futuro della promozione del territorio, di tutte le comunità, in particolar modo la Regione Abruzzo che sta investendo molto su questo fronte e con degli investimenti corposi sia di infrastrutturazioni materiali ma anche immateriali con delle iniziative molto significative come queste. Poi un ringraziamento ovviamente all'amministrazione comunale di Villetta Barrea e ai comuni che mettono insieme un percorso promozionale del proprio territorio davvero significativo. Tornare a investire, dare forza a questo tipo di iniziative a mio avviso è davvero significativo per dare spazio a un'importante leva di sviluppo qual è questa Regione, che è una Regione bellissima da vivere, una Regione bellissima dove vivere. Non dobbiamo assolutamente trascurare, anzi dobbiamo far leva sugli aspetti turistici che una tale manifestazione può comportare che avranno sicuramente un maggior peso per quest'anno, per questa seconda edizione, alla luce di tutte le problematiche che sono state vissute. In questo momento vogliamo far leva sulle nostre potenzialità, sulle nostre forze, sulla nostra capacità di coesione territoriale per promuovere un evento che possa diventare davvero un evento con la E maiuscola e che possa essere conosciuto anche al di fuori dell'Abruzzo. Già siamo partiti nella precedente edizione con circa 600 iscritti. Villetta Barrea è un paese di 600 abitanti per cui potrebbe anche far paura questo numero, ma noi non ci lasciamo assolutamente intimorire, anzi siamo già al lavoro da diversi mesi per far sì che tutto sia organizzato nel minimo dettaglio.